Ciao a tutti gli amici di Futura Channel, sono qui solo per ricordarvi che dal 3 dicembre parte una rubrica dedicata al mondo del cinema. Farò delle recensioni assolutamente disinteressate senza eccessivo impegno, anche perché non sono all'altezza di recensire un film così come davvero si dovrebbe fare. Semplicemente parleremo di volta in volta di film che sono al cinema, di cinema indipendente soprattutto, di film che un attimino hanno da raccontare o da dire qualcosa. Quindi mi raccomando dal 3 dicembre su Futura Channel, questa rubrica particolare. Ciao, ci vediamo!